E adesso dedichiamo questo articolo a Chico Nalli, che è l'ex marito di Tina Cipollari. Credo che ormai possiamo tranquillamente parlare di ex in quanto ormai, le pratiche del matrimonio dovrebbero essere concluse. Ciò, nonostante è stata una separazione consensuale ma fra i due è rimasto un grande rispetto reciproco? Un amore che ha lasciato tre bellissimi figli. Questa settimana Chico Nalli è stato anche intervistato dalla rivista Vero che gli ha chiesto se Fratina Cipollari e Giorgio Manetti ci potesse essere qualcosa. Ma a quanto pare l'ex marito lo esclude categoricamente dicendo che mi viene da ridere, perché Giorgio non è certo il prototipo dell'uomo che cerca Tina. Ma la critica che fa Chico a Giorgio Manetti va ben oltre infatti dice lo stesso. Non cerca uomini che volano da un fiore all'altro. Tina è bellissima, intelligente e ha una personalità esplosiva. Conoscendola, credo che cerchi uomini di un certo tipo, concreti, meglio se non appartenenti al mondo dello spettacolo. Ma le parole di Chico non si fermano qui infatti ne ha anche per Gemma Galgani della quale dice. Non so cosa pensare, anche perché io non conosco Gemma e non credo che Tina l'abbia mai considerata. Trovo inconcepibile chi continua a fare un confronto tra le due, dimenticando che Tina, al contrario di Gemma è sulla cresta dell'onda da circa 25 anni. Insomma sembra che quasi quasi.